La politica non sta proprio vivendo uno dei suoi momenti migliori della storia repubblicana. Allora, di fronte ad una situazione di questo tipo, ci possono essere comportamenti differenti. Possiamo dire che va bene così, non c'è speranza, non possiamo fare nulla, tanto sono tutti uguali, non cambia niente, pensano alla poltrona. Quindi starcene a casa tranquilli e guardare la televisione. Oppure possiamo pensare di assumerci delle responsabilità, come avete fatto voi questa sera qui venendo a teatro, e sfidando anche il freddo, la pioggia, la sera. Bene, se esiste da qualche parte, dentro di noi, la consapevolezza che qualcosa si può fare, io dico che quella cosa si deve fare. Bisogna agire. Guardate, che se poi noi ci rendiamo conto che il nostro vicino, il nostro compagno, magari ha lo stesso tipo di difficoltà che abbiamo noi, e riusciamo magari insieme a fare sinergia e ad affrontare quelli che sono i problemi, allora probabilmente insieme c'è una grande possibilità di riuscire a risalire la china. A me il filmato che abbiamo proiettato piace molto. E' un pezzo di un film che si intitola Ogni maledetta domenica. E qui Al Pacino incita la propria squadra a lottare insieme. Questo è il punto cardine, secondo me. Perché sa che soltanto in questo modo, cioè facendo gioco di squadra, la partita si può vincere. Perché l'alternativa, come dice alla fine del filmato, è quello di essere annientati individualmente. Io avrei potuto iniziare questo intervento raccontandovi qualche storia che ognuno di noi può vivere frequentando questa città, lavorandoci. Potrei raccontarvi gli occhi di una madre, disperata perché il proprio marito gioca quasi tutto il proprio stipendio alle slot machine, e non ha quindi da dare da mangiare al proprio figlio. Oppure potrei raccontare degli occhi di una ragazza che avendo un diploma professionale di parrucchiera, quando va a chiedere un lavoro, le viene risposto guarda noi abbiamo bisogno di persone che abbiano chiaro esperienza. E lei mi dice ma io sono capace a fare il taglio base, ma come faccio a imparare quello più complicato se non lo provo, se non me lo fanno vedere. Ho ancora gli occhi di un 45enne da troppo tempo ormai senza lavoro perché la sua azienda ha fallito, che non riesce a pagare le spese di condominio. guardate, avrei anche potuto dirvi, o avremmo potuto dirvi, che noi qui abbiamo la ricetta per tutto. Abbiamo la ricetta per un lavoro per tutti i dichiarinesi, per una sanità perfetta, per una manutenzione che trasforma la nostra città nel paradiso delle strade. Ma non è così. Purtroppo non è così. Però attenzione. Perché le scelte politiche, quando c'è un problema di risorse, possono fare la differenza. Allora, scegliere di fare una festa in più, oppure magari di creare un fondo per ridurre la tares e quindi alleggerire, diciamo, il costo delle tasse per i commercianti, per i piccoli imprenditori, per gli artigiani, può fare la differenza. Incontrare i dirigenti dell'ASL per dire loro che quando un professionista va in pensione, quindi il servizio viene chiuso, no, non deve essere chiuso. Perché per questa comunità, quel servizio è importante. deve essere sostituito. Oppure scegliere di misurare la glicemia alle quattro del pomeriggio per strada, può fare la differenza. Così come fare un appalto unico per fare la manutenzione, che consente di risparmiare, oppure fare tanti piccoli appalti per accontentare le imprese piccole che sono amiche, magari, ma che non permettono di risparmiare, può fare la differenza. Ora, io vi chiedo di riflettere. Noi ce la mettiamo proprio tutta. Abbiamo una grande passione, l'avete vista anche dagli interventi prima. Perché il 16 di febbraio, non domenica questa, l'altra, dalle 8 alle 20, votare un candidato o votarne un altro può fare la differenza. Sulle vostre sedie, sulle vostre poltroni, avete trovato una busta. Dentro ci sono dei santini. Se ognuno di voi parla con qualcuno, se è convinto della nostra proposta, ecco, fatelo, perché ce la possiamo fare. E io credo che noi possiamo accontentarci che Michelino sia famoso in tutta Italia per le polemiche legate ad un videoclip girato all'interno del Comune, oppure per qualche intervista rilasciata da qualche zelante, ma demagogo giornalista che va a prendere gli aspetti più negativi di questa realtà, che non sono diversi da tante altre realtà come le nostre, oppure possiamo decidere di recuperare quel senso di comunità che già in passato ci ha aiutato tantissimo a superare i momenti difficili. Bene, guardate che la squadra non siamo noi qua, la squadra non siamo noi, la squadra siamo noi ma insieme a voi, la squadra siete tutti voi insieme. E io vi dico, e vado a chiudere, che se noi insieme lottiamo, prendiamo in mano il nostro futuro, siamo certamente bravissimi ad arrivare a meta. Grazie. Grazie.